Giulia, ciao. Ciao. Mi dispiace tanto. Lo so. Nessun cambiamento? Non si è mossa da quando sono qui. Che cosa dicono i dottori? È passata solo un'infermiera. Ehi. Ciao, piccola. Mi senti? Ehi. Sono qui con tua madre. Mi senti? Kenzie. Non si ammalava mai da bambina. Ma eravamo tanto spesso al pronto soccorso che la conoscevano per nome. Era come avere tre maschi. Non aveva paura di niente. Sì, beh, è ancora così. Ehi. Sì. Sì.